E siamo pronti per... sì, presto al mattino. Svegliarsi, via! Stiracchiarsi, stiracchiarsi di più! Aprire bene i muscoli, via! Sollevare lo zaino. È più pesante questo zaino, più giù, più giù, più giù. È pesantissimo? Sì, è pesantissimo. Insieme! La, 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 la. Ancora! Ora, forte, voi! È il momento dell'interrogazione. Nascondersi, nascondetevi dietro qualcuno, nascondetevi, acquacciatevi sotto il banco. È l'interrogazione. Per esempio, matematica, 6 per 6, quanto fa? 3 per 1! 5 per 5! 5 per 5! Avanti! La unia è forte! Voi! Fortissimo! Perfetto, ginnastica! Saltare, correre, correre! Siamo al momento di ginnastica! Saltare sul posto! Flessioni! Ma siccome siamo in piazza San Pietro, genuflessioni! Bravissimi, vai! La, 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 la